La Regione Campana e la Diocesi di Napoli è un appuntamento non solito, certamente con carattere straordinario straordinario per i pezzi che siamo riusciti a mettere insieme, a presentarli stasera poi li vedrete perché sono esposti nel coro superiore delle monache e perché la Chiesa di Napoli si è impegnata in questa esposizione, in questa mostra certamente è una mostra che ha un grande valore scientifico perché noi come Museo non duriamo l'attribuzione a Leonardo ad altri di una tela o di un bravo lavoro e so che i critici sono alcuni contrari, alcuni favorevoli certamente è favorevole all'attribuzione di Leonardo il più grande critico di nomea internazionale che è Carlo Pedretti e se Carlo Pedretti dice che è un'opera di Leonardo probabilmente c'è da crederci comunque al di là del parere dei critici, chi può essere favorevole, chi può avere quasi dubbio e chi vuole approfondire ulteriormente la questione noi l'opera l'abbiamo portata a Napoli anche per gli studiosi che magari la studiavano ma da lontano oggi possono avere l'opportunità di guardarla da vicino e anche di studiarla e di approfondirla questa cosa